Alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Turati a Bellocchi di Fano dove è divampato un incendio accidentale che ha interessato alcuni arbusti di fianco al canale Albani. Il rogo si è poi propagato per una decina di metri coinvolgendo un piccolo capanno abusivo e dei bancali di legno in un piccolo appezzamento di terreno oltre ad un canneto ed altro materiale. I pompieri di Fano e Pesaro sul posto con tre mezzi hanno domato le fiamme utilizzando anche il liquido schiumogeno.